Anticipazioni una vita. Domenica, 13 dicembre 2020. Sinta interroga suo padre nel tentativo di farlo parlare su ciò che ha saputo da Camino. Questi tentativi, però, sono vani. Nel frattempo, Felicia non è più così convinta di volersi sposare con un uomo del genere che le ha distrutto la vita in pochi giorni. Per tale ragione decide di fare una proposta all'Edesma. Gli offre tutti i soldi di cui è in possesso in cambio del matrimonio che non si farà. Il mezzadro rifiuta, poiché non sta cercando il denaro ma vuole che, finalmente, la sua famiglia abbia un buon nome. Felipe vuole trovare Marcia a tutti i costi, ma la cosa sembra farsi più difficile del previsto. L'avvocato si infuria molto con Mauro, accusandolo di non aver messo sufficiente pressione ad Andrade, che ora si sente libero di fare ciò che vuole. Di sua spontanea volontà, Felipe si reca a casa di Cesar per scoprire notizie su Marcia. Grazie. 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 Grazie.